Alberto Cisolla ha ritornato da ex qui al Palavalenzia, ci avete provato fino alla fine, avete venduto cara la pelle, cosa vi è mancato forse nel quarto set? Noi come sempre ci proviamo senza grossi obiettivi, cerchiamo di mettere tutto quello che abbiamo, poi onestamente in alcuni momenti del gioco squadre come Vibo hanno delle fisicità e delle individualità superiori e ci superano anche di parecchi punti, comunque l'importante per noi è mantenere questo atteggiamento, magari pensarci un po' di meno, regalare un po' meno in qualche occasione almeno quando abbiamo quelle poche possibilità di fare il punto, essere un attimo più spiatati, però ovviamente sapevamo che venire qui sarebbe stata molto molto dura Però Brescia, seppur avendo giocato solamente una gara in casa contro Potenza Picena, si conferma scuola alla trasferta perché avete ottenuto un punto a Ortona alla prima avete vinto a Reggio Emilia, adesso stasera avete provato a portare via punti anche da qui A noi a dire la verità ci proviamo anche in casa, poi ne abbiamo giocato solo una contro Potenza Picena che ha fatto una grandissima partita, noi ripeto ci proviamo sempre, non pensiamo a casa o fuori ma pensiamo a quello che facciamo in campo